molto sottile, partiti veloce il break esterno di Poleif che si porta immediatamente in vantaggio rimanendo percorsie larghe Scala Umbra si fa sotto, percorsie più interne invece rimane Agnesotta, seconda linea per Zenese a largo di tutti poi ancora Mary Orpen che si fa sotto mentre più dietro c'è Roxy che non ha colto un break molto buono e Pier De Lune che si ripropone con la giubba celeste su Agnesotta che in giubba rosa è in avanti in corda ci sono virtualmente sei cavalli pressoché in linea Agnesotta lungo lo steccato appunto in giubba rosa a largo invece con i bracciali gialli Scala Umbra che ha superato Poleif si prepara anche Mary Orpen in giubba amaranto nera insieme appunto a Pier De Lune poi ancora Roxy che prova a recuperare mentre Zenese in coda non guadagna l'attacco di Pier De Lune che viene però a sua volta incalzato da Mary Orpen se la vanno a giocare due davanti a Roxy Mary Orpen di fuori all'interno Pier De Lune che non molla la presa Pier De Lune che regola la sua avversaria e viene a concludere con Roxy che colpetta il marcatore su Agnesotta Pier De Lune per il quick double di Federico Bossa questa volta per il colore della first racing e il team Marcialis al training Pier De Lune per il grande interno